Ora cominciamo, buonasera a tutti, io sono Paolo Ravazzani, sono il direttore dell'Istituto di elettronica e di ingegneria dell'informazione e delle telecomunicazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche e siamo qui per un altro giovedì dell'Istituto, ormai questa tradizione da oltre un anno, circa ogni 15 giorni, ci troviamo per ascoltare, per discutere, grandi esperti di ricerca e di innovazione, sia dell'ambito dell'Accademia che della ricerca che delle aziende. Questa serata, perché è abbastanza buio fuori, quindi dalla serata abbiamo l'onore di ospitare Alberto Gatto, del Politecnico di Milano, che ci racconterà qualcosa sulle onde gravitazionali, adesso lo ascolteremo. Mi interrompo qui, semplicemente ricordando come al solito a tutti che la sessione è videoregistrata e la videoregistrazione andrà sul nostro canale YouTube dell'Istituto. Lascio la parola a Marco Ferrari che farà gli onori di casa e poi sentiremo Alberto che ringrazio davvero per il tempo che ci sta dedicando. Grazie Paolo, quindi esatto come anticipato il nostro ospite stasera è appunto Alberto Gatto che vedete, che è ricercatore al Politecnico di Milano, dove si è laureato, ha preso il dottorato e ha svolto quasi tutta la sua vita di ricercatore, occupandosi di anche cose abbastanza diverse tutto sommato. Io per esempio ho il piacere da un poco più di un anno diciamo di collaborare con lui sul tema quantum communication e se c'è un filo che lega diciamo tutte le attività mi sembra di poter dire che questo filo è la luce in un certo senso. e quindi seguendo questa luce gli è capitato anche diversi anni fa ormai di entrare a far parte del team Virgo e quindi di vivere da protagonista possiamo dire tra i protagonisti uno degli eventi forse più eccitanti della storia della scienza recente che è quello di cui ci parla stasera, giusto? Esatto. Va bene, grazie mille Marco, grazie per questa introduzione e grazie a tutti voi per essere qui presenti. Come vi hanno appena detto, appunto beh io sono Alberto Gatto, faccio ricercatore al Politecnico di Milano, ho svolto tutta la mia carriera diciamo nell'ambito delle comunicazioni ottiche ma anche in un certo senso operando a livello fisico e quindi tutto questo mi ha permesso a un certo punto circa nel 2013 di entrare nel gruppo Virgo di Parigi per proprio nella parte di propriamente di ottica e quindi da vivere quei momenti effettivamente molto eccitanti in cui è stata, c'è stata la prima rivelazione di un erroritazionale. Partiamo subito con l'evento fondamentale, come è stato detto poco fa è stato forse l'evento più importante degli ultimi anni per quanto riguarda la fisica fondamentale ed è stato, è successo appunto a metà settembre di circa sei anni fa in cui le due, i due rilevatori LIGO che sono l'equivalente di Virgo negli Stati Uniti sono riusciti a captare per la prima volta nella storia dell'umanità un segnale di un'onda gravitazionale che è quello che probabilmente conoscete a memoria che vedete qua in questa, in alto a destra nella slide. Questa prima rivelazione di onda gravitazionale è arrivata se vogliamo esattamente cento anni dopo che l'enunciazione della teoria della relatività generale da parte di Einstein. Ed è perché così tanto importante e se vogliamo anche così eccitante dal punto di vista scientifico? Perché da quel giorno è come se l'umanità avesse acquisito un nuovo senso per percepire l'universo. Fino a quel momento tutto quello che noi abbiamo avuto è stato, come dire, la vista, per cui tutto lo spettro elettromagnetico che ci ha insegnato tantissime cose a proposito dell'universo, di tutto quello che c'è e così via, in quel momento abbiamo guadagnato un nuovo senso, l'udito. Per cui da quel momento in avanti ora è come se avessimo, potessimo avere un senso in più per analizzare e studiare l'universo. In questa slide vi facevo anche sentire il suono dell'onda gravitazionale, purtroppo in questo momento credo di non essere in grado di trasferire il mio audio anche alla conferenza, quindi voi non l'avete sentito, l'ho sentito purtroppo solo io, però vedete quello qua sotto è una rappresentazione proprio del segnale proprio esattamente del segnale che vedete qua sopra. Questo segnale si trova a frequenze audio, perché? Perché fondamentalmente ci troviamo nella banda tra, diciamo, qualche decina di hertz e un kilohertz, per cui fondamentalmente è abbastanza facile poi renderlo anche dal punto di vista audio. Tanto per dare un'idea generica di quello di cui stiamo parlando, torniamo un po' indietro nel tempo, quindi circa 100 anni fa, Einstein enuncia la sua teoria della relatività generale, che è molto importante perché introduce i concetti di spazio-tempo e di universo curvo. Tutti voi probabilmente conoscete a mena dito quello che dice la teoria della relatività generale. Quello che per noi è, tra virgolette, importante questa sera è la sintesi fatta da John Wheeler, che leggiamo in questa sua massima, in cui ci descrive di che cosa stiamo parlando. Il concetto di spazio-tempo non è altro che l'esistenza di un tessuto che permea completamente la realtà, all'universo, in cui siamo immersi tutti noi, questo spazio-tempo poi va a determinare come le masse interagiscono tra di loro e anche come fondamentalmente si muovono all'interno dell'universo. Quindi lo spazio-tempo va a determinare come la materia, le masse, si possono muovere all'interno dell'universo e anche come si muovono una relativa all'altra, mentre la materia stessa va a imporre allo spazio-tempo una curvatura. Quindi più abbiamo materia, più abbiamo una massa grossa, grande, più lo spazio-tempo diventerà curvo. E questa curvatura è importante quando abbiamo a che fare con movimenti all'interno dell'universo, che siano movimenti di masse come per esempio pianeti o stelle che si muovono all'interno dello spazio, ma anche per esempio dalle onde elettromagnetiche, perché se vi ricordate la prima conferma sperimentale della veridicità della teoria della relatività di Einstein è stata proprio l'effetto di lente gravitazionale provocato dal Sole durante un'eclisse. Per cui fondamentalmente lo spazio-tempo curvo va a determinare come le masse si possono muovere perché devono seguire questa curvatura dello spazio-tempo. E la curvatura è determinata allo stesso tempo dalla dimensione delle masse che ci sono in gioco. Che cosa sono propriamente le onde gravitazionali? Le onde gravitazionali non sono altro che delle perturbazioni di questo tessuto, dello spazio-tempo, che accadono ogni volta che degli oggetti molto massivi, come per esempio dei buchi neri o delle stelle di neutroni, si muovono ad una velocità relativistica, quindi molto veloce, e tendenzialmente per esempio collidono tra di loro e si uniscono per formare un nuovo oggetto. L'effetto di un onde gravitazionale è quello che vedete nell'animazione che vi sto mostrando ora. Ovviamente questo effetto è enormemente esagerato perché, come vedremo tra poco, stiamo parlando di effetti molto molto piccoli nello spazio, ma un'onda gravitazionale non fa altro che andare a dilatare e contrarre due assi ortogonali dello spazio, per cui ad un certo tempo andrà a dilatare una direzione del nostro spazio e nello stesso tempo sta contraendo l'ortogonale. Successivamente accade il viceversa e così via, è esattamente un'onda, per cui è un'onda perturbativa dello spazio-tempo che va a cambiare proprio le dimensioni dello spazio in due direzioni diverse. Quali sono le sorgenti principali di queste onde gravitazionali? Possiamo avere onde gravitazionali da tantissime sorgenti, il problema è che abbiamo a che fare con segnali che normalmente arrivano da distanze veramente in questo senso galattiche. Stiamo parlando di magari milioni se non miliardi di anni luce, quindi qualcosa di veramente molto lontano da noi. E quindi il segnale che arriva è veramente molto molto ridotto come ampiezza, è molto difficile da rilevare. E quindi in questo momento i nostri rilevatori sono limitati a sorgenti molto molto grosse, quelli che vengono chiamati gli oggetti cosmici massivi, che propagano, che si muovono a velocità relativistica. Oppure siamo fondamentalmente limitati a eventi cataclismatici. Quindi tutto questo fa sì che voi tutti conoscerete circa il ciclo di vita di una stella normale. Noi possiamo focalizzarci purtroppo solo e unicamente sulla fase finale della vita di una stella. In realtà ci focalizziamo praticamente sulla fase post mortem della stella, perché dopo essere diventata una gigante rossa, sapete che se la stella è abbastanza grande, se ha abbastanza materiale, quindi se è un oggetto abbastanza massivo, questa stella esplode come una supernova. E dopo la supernova quello che possiamo ottenere è una stella di neutroni oppure un buco nero a seconda delle dimensioni originarie di questa stella. Quindi i candidati perfetti per la nostra ricerca sono proprio le supernove oppure stelle di neutroni e buchi neri. Ed in particolare, come vedremo tra pochissimo, i sistemi binari di questi due tipo di stelle, di fine stella. Che tipo di segnali possiamo ricevere? Diciamo i segnali, se vogliamo, classici, per cui quello che abbiamo sono dei segnali transienti, quindi qualcosa che è limitato nel tempo, come vedremo tra pochissimo, possiamo avere però delle limitazioni nel tempo molto diverse a seconda della sorgente, segnali periodici, oppure abbiamo una sorta di radiazione di fondo provocata da tutte le onde gravitazionali che sono state emesse dal Big Bang fino ad oggi. Le sorgenti più tipiche che andiamo a ricercare, che sono anche attualmente le uniche che siano state mai osservate direttamente, sono per esempio i sistemi binari di stelle di neutroni, di buchi neri o sistemi appunto misti stelle di neutroni, buchi neri, quindi un buco nero, una stella di neutroni. E in particolare quello che ci interessa è quella che viene chiamata la coalescenza di questi sistemi binari. Per cui la coalescenza non è altro che la fase finale di avvicinamento dei due oggetti, uno all'altro, per poi diventare, per poi unirsi, collidere e unirsi, e diventare un unico oggetto. In questo senso la nostra onda gravitazionale che viene emessa da questo genere di sorgenti, da questo genere di eventi, è un segnale fondamentalmente cirpato, per cui con una frequenza che varia nel tempo, e questa frequenza dipende dalla fase della nostra coalescenza. Per cui abbiamo tre diversi momenti della coalescenza. Il primo è quella che viene chiamata la fase di in spiral, che è fondamentalmente quando i due oggetti stanno ancora orbitando uno intorno all'altro e si stanno avvicinando progressivamente. C'è una perdita di energia in onde gravitazionali e quindi fondamentalmente i due oggetti perdendo energia tendono ad avvicinarsi uno all'altro fino a quando poi si fondamentalmente collidono e si uniscono in un unico oggetto. E questa è la seconda fase, la fase di merger. Infine, nel caso in cui i due oggetti siano due buchi neri, abbiamo anche una terza fase, che è quella chiamata di ring down, in cui fondamentalmente il nuovo buco nero formatosi dalla collisione dei due precedenti si stabilizza e diventa un nuovo buco nero a tutti gli effetti. Questo genere di sorgente, o di vento se vogliamo, è molto importante perché viene descritto completamente dalla teoria della relatività di Einstein, per cui andando a risolvere normalmente numericamente l'equazione di campo della teoria della relatività, noi siamo in grado di trovare proprio il segnale, trovare questo segnale scirpato. E quindi, una volta che sappiamo tutti i parametri dei nostri oggetti, riusciamo a replicare perfettamente il segnale che otteniamo. Il secondo genere di eventi e di sorgenti che possiamo andare a rilevare sono quelli che sono i cosiddetti burst di onde gravitazionali. Questi ovviamente sono dei segnali puramente transienti, capite bene, perché sono l'effetto di un evento per virgolette impulsivo, come può essere per esempio l'esplosione di una supernova, oppure la transizione di una stella di neutroni verso un buco nero. Il problema di questo genere di segnali, che non è mai stato rilevato finora, è che non si riesce a ottenere una descrizione né analitica né numerica di questo genere di evento. Sappiamo solo che fondamentalmente questo genere evento è ovviamente transiente in un range che può andare dal millisecondo fino a circa un migliaio di secondi, però la forma del segnale che può venire generato in questa fase, in questa, da un'esplosione di una supernova oppure da una transizione di una stella di neutroni, non è conosciuta a priori, e quindi è molto più difficile andare a rilevarlo poi nel rumore che si acquisisce normalmente. Una terza sorgente di onde gravitazionali sono quelle che vengono chiamate le sorgenti periodiche, e fondamentalmente possono essere di due tipi. La prima è, se vogliamo, la fase ancora iniziale della coalescenza che abbiamo visto due minuti fa. Per cui quando i due oggetti cosmici stanno ancora orbitando uno intorno all'altro, sono ancora abbastanza lontani, in questo caso l'orbita dei due oggetti è molto regolare, la perdita di energia è molto bassa, e quindi abbiamo una lunga fase in cui vengono emesse delle onde gravitazionali molto basse, che però sono perfettamente periodiche. Un'altra sorgente possibile di onde gravitazionali periodiche sono le stelle di neutroni che ruotano molto velocemente, quelle che vengono normalmente chiamate delle pulsar. Queste pulsar normalmente sono dotate proprio di uno spin rate, vengono rilevate anche nel campo elettromagnetico, e infatti sono molto conosciute proprio per questo motivo, e la loro velocità di rotazione va a determinare non solo il periodo dell'onda elettromagnetica emessa, ma anche quello dell'onda gravitazionale. Normalmente, per avere un'emissione di onde gravitazionali con questo genere di sorgenti, abbiamo bisogno di avere una sorgente non perfettamente sperica, perché dobbiamo avere delle asimmetrie proprio nello spazio che generino poi queste perturbazioni dello spazio-tempo. Però, quello che si ottiene normalmente sono proprio dei segnali puramente periodici. Infine, c'è quello che viene chiamato lo stocastic background, che non è altro che una sorta di radiazione di fondo anche a livello di onde gravitazionale, e non è altro che la somma incoerente di tantissime onde gravitazionali che sono state emesse fondamentalmente dal Big Bang fino ad ora. Questo tipo di informazione sarebbe molto interessante da rilevare, perché ci potrebbe dare qualche conoscenza aggiuntiva riguardo le fasi iniziali proprio dell'universo. Cosa sono, e diciamo, diamo un'idea delle onde gravitazionali. Vi ho detto prima che fondamentalmente l'onda gravitazionale non fa altro che andare a dilatare e contrarre due dimensioni dello spazio al suo passaggio. Per cui, quello che succede prima è che una direzione viene dilatata, l'altra in contemporanea viene contratta, e continuando a propagare vediamo esattamente l'opposto, quindi la prima direzione, la prima dimensione viene contratta, la seconda viene dilatata, e così via. Qual è la, se vogliamo, l'ampiezza di questo segnale? Questo segnale è veramente, veramente molto, molto piccolo. Stiamo parlando di qualcosa dell'ordine dei 10 alla meno 18 metri, e quindi capite bene che è qualcosa di veramente minuscolo, perché stiamo parlando veramente di un millesimo della dimensione dell'atomo, o addirittura di un protone, per cui fondamentalmente è qualcosa di veramente molto piccolo. Inoltre abbiamo, se vogliamo, dei piccoli problemi, nel senso che ogni sorgente, ogni sistema che possiamo andare ad osservare che emette onde gravitazionali, ha anche una frequenza caratteristica nella quale va ad emettere, e quindi, oltre ad avere anche un'ampiezza, diciamo, caratteristica di quest'onda gravitazionale. Attualmente ci sono solo unicamente dei rilevatori terrestri, per cui dei sistemi che rilevano le onde gravitazionali che sono posti a terra, e questo genere di rilevatori praticamente sono abbastanza broadband, appunto vanno da qualche hertz a qualche kilohertz, ma si trovano appunto solo e unicamente in questa banda di frequenze. Tutto il resto non riescono a sentirla a causa fondamentalmente del rumore ambientale e di tutti altri limitazioni, diciamo, fisiche dovute anche al metodo che si utilizza per andare a leggere questo onda gravitazionale e così via. Questo fa sì che noi possiamo andare ad osservare solo e unicamente alcune sorgenti, e in questo range fondamentalmente vedete come lo strain sia veramente molto piccolo, e quindi ci ritroviamo ad avere questo 10, cioè almeno 18, metri di variazione tra un asse e l'altro. Altri tipi di sorgenti avrebbero delle ampiezze molto più grandi, ma si trovano a frequenze molto molto più piccole, e quindi queste frequenze fondamentalmente non sono rilevabili dai rilevatori terrestri. Alcune di queste potrebbero essere rilevate dai prossimi rilevatori che verranno installati proprio nello spazio in orbita intorno alla Terra nei prossimi anni. Come si misurano le onde gravitazionali con i rilevatori terrestri? Fondamentalmente si va ad utilizzare una misura ottica, e in particolare si utilizza quello che viene chiamato un interferometro di Michelson, in cui fondamentalmente ha questa struttura ad L, in cui, e lo vediamo bene con questo video, abbiamo una luce che viene divisa esattamente in parti uguali, e propaga nei due rami del nostro interferometro. Fondamentalmente i due rami sono mantenuti stabili, fermi in una determinata posizione, quindi quello che succede è che in fondo al singolo ramo noi abbiamo uno specchio che ci rimanda indietro completamente la radiazione elettromagnetica e i due rami sono mantenuti con una certa relazione che fa sì che nella quarta uscita fondamentalmente le due radiazioni si stiano sommando in controfase. L'effetto dell'onda gravitazionale fa sì che i due rami fondamentalmente varino come lunghezza e quindi in questo caso quello che succede è che l'interferenza distruttiva che avevamo sul quarto ramo non è più così perfetta e quindi noi vediamo della luce anche qua dove andiamo a mettere effettivamente il nostro il nostro detector. Questo è più o meno quello che succede. Dopodiché per raggiungere queste sensibilità così estreme bisogna andare a tra virgolette ingegnerizzare e migliorare enormemente l'interferometro di Michelson di base. Quindi per andare a guadagnare fondamentalmente in sensibilità i due rami non sono due rami semplici con uno specchio in fondo ma diventano delle cavità risonanti e quindi in questo caso la luce non fatto che rimbalzare migliaia di volte all'interno di queste cavità e quindi è come se noi avessimo dei bracci dell'interferometro molto molto più lunghi e questo fa sì che guadagniamo proprio in sensibilità. In più vengono inseriti altri specchi che servono proprio per migliorare anche la qualità del segnale e per aumentare la potenza della luce che abbiamo all'interno del nostro interferometro perché la sensibilità dipende abbastanza direttamente dalla potenza che è all'interno di queste cavità quindi questo è più o meno uno schema un po' più realistico di quello che abbiamo dopodiché lo schema reale è ancora più complicato perché abbiamo tutta una serie di ottiche molto complicate che servono per stabilizzare tutto questo sistema. Una velocissima carrellata per concludere il mio talk sui risultati se vogliamo scientifici di questa rivelazione e di tutte le successive il primo è ovviamente quello di cui vi ho già parlato all'inizio della presentazione per cui la prima rivelazione di un'onda gravitazionale a cent'anni dall'enunciazione della teoria della relatività questa rivelazione è stata importantissima perché fondamentalmente ci ha donato questo nuovo senso per percepire l'universo e questo nuovo senso non è altro che la gravità fondamentalmente per cui in questo caso noi per la prima volta stiamo percependo proprio le variazioni di gravità provocate da questi oggetti molto massivi dopodiché c'è stata ci sono stati una serie di eventi quello è stato il primo se vogliamo il più famoso il più importante perché appunto è stato il primo ma da quel momento in avanti ce ne sono stati molti attualmente sono stati svolti tre run scientifici in cui sono stati acquisiti i dati in questi differenti run nei primi due abbiamo avuto nel primo ci sono stati solo i rilevatori quelli americani di LIGO dal secondo in poi è entrato anche Virgo che aveva circa un anno di differenza fondamentalmente di ritardo nelle operazioni vedete come fondamentalmente durante i primi due sono state rilevate 11 onde gravitazionali nella prima parte del terzo perché stanno ancora in questo momento stanno ancora elaborando tutti i dati e quindi solo la prima parte del terzo run è stata completamente elaborata se ne sono già torate 39 questo cambiamento è dovuto proprio al fatto che tra il secondo e il terzo run ci sono stati dei miglioramenti tecnologici molto importanti che hanno permesso di migliorare la sensibilità degli strumenti in più fondamentalmente quello che è successo è che è stato anche più facile andare ad avere più di un rilevatore attivo allo stesso tempo dovete sempre ricordare che per essere sicuri che un'onda gravitazionale sia stata rilevata almeno due rilevatori allo stesso tempo devono vederla altrimenti quel segnale non viene ritenuto così così probabile e quindi se noi aumentiamo il tempo in cui più di due rilevatori sono accesi a questo punto fondamentalmente si guadagna proprio anche come numero di eventi questo terzo run è stato fondamentalmente concluso poco prima o forse proprio con il lockdown dell'anno scorso infatti doveva durare credo fino ad aprile dell'anno scorso ma è stato tagliato diciamo a marzo perché fondamentalmente tutti i rilevatori sono stati chiusi a causa dei vari lockdown nel mondo in questo slide vedete fondamentalmente degli esempi sono le prime 11 onde gravitazionali rilevate vedete che la tipologia di segnale è sempre praticamente molto simile è quest'onda è quest'onda cirpata con una frequenza che varia nel tempo quello che è interessante è importante notare è come sono tutte onde gravitazionali derivanti dal merging di due buchi neri a parte quest'ultima che sono due stelle dei neutroni e vedete come effettivamente i segnali siano della stessa tipologia ma quello che cambia cambia molto l'asse dei tempi per i buchi neri stiamo parlando di qualche centinaio di millisecondi mentre nel caso delle stelle di neutroni abbiamo decine di secondi questo perché cambia in base alla tipologia di sorgenti in particolare dalle masse degli oggetti che si stanno che si stanno unendo quali sono appunto i primi principali risultati scientifici fondamentalmente stiamo poco a poco aumentando la popolazione di buchi neri che sono stati osservati in questo caso direttamente se vogliamo perché è un'osservazione diretta in questa slide vedete proprio praticamente è l'ultima versione di tutte le sorgenti che sono state rilevate in questi anni vedete in azzurro ci sono tutti i buchi neri osservati tramite le onde gravitazionali mentre quelli in viola sono quelli che erano stati osservati in maniera indiretta tramite lo spettro elettromagnetico quindi fondamentalmente vedendo degli effetti di lente gravitazionale o se vi ricordate un paio di anni fa era uscita la prima foto di un buco nero per cui vedete come effettivamente i rilevatori di onde gravitazionali stiano vedendo molti più buchi neri di quanti non ne avessimo visti finora e questo è probabile probabilmente dovuto al fatto che questi rilevatori sono molto più sensibili nelle frequenze precise dei buchi neri del merging dei due buchi neri al contrario per quanto riguarda le stelle di neutroni vediamo che abbiamo tantissime stelle di neutroni viste nello spettro elettromagnetico e molto poche invece da LIGO e Virgo e questo proprio perché in questo caso abbiamo anche delle frequenze molto più alte che quindi sono un po' ai limiti se vogliamo della banda dei rilevatori un altro importantissimo risultato dal punto di vista scientifico è il fatto che grazie alla possibilità di rilevare le onde gravitazionali è nata una nuova branca dell'astronomia dell'astrofisica fondamentalmente che è quella che viene chiamata la multi messenger astronomy in cui uno stesso evento viene osservato attraverso diversi sensi per cui fondamentalmente c'è stato un evento molto specifico che è quello di metà agosto del 2017 in questo caso è stato rilevato il merging di due stelle di neutroni queste due stelle di neutroni hanno provocato la generazione di un'onda gravitazionale ma anche tutta una serie di segnali nello spettro elettromagnetico per cui prima di tutto è arrivato un burst di raggi gamma e poi tutta una serie di radiazione elettromagnetica nello spettro ottico e infrarosso e anche nelle onde radio in questo caso si chiama multi messenger astronomy perché fondamentalmente la rilevazione dell'onda gravitazionale ha fatto da trigger per tutte le altre rilevazioni per cui fondamentalmente tramite l'onda gravitazionale abbiamo avuto un avviso di questo evento poi successivamente i raggi gamma hanno permesso di raffinare la parte di cielo in cui è successo l'evento e quindi in quel caso poi si è osservata quella zona di cielo per un lungo tempo e si sono visti gli effetti anche dal punto di vista delle onde elettromagnetiche e questo è quello che si spera di poter fare sempre di più anche per tutti gli altri tipi di sorgenti in modo tale da capire e comprendere sempre molto di più come sono composti di quello che succede un altro risultato scientifico molto importante è stato questa sorta di bang nel 2019 c'è stato un segnale molto forte rilevato da tutti e tre i rilevatori di onde gravitazionali ed è stato il merging di questi due buchi neri con 85 e 66 masse solari il risultato è stato un nuovo buco nero con 142 masse solari perché è così importante perché fondamentalmente fino a quel momento si erano osservati solo due tipologie di buchi neri quelli derivanti dall'esplosione delle stelle che quindi sono dotati di qualche decina di masse solari oppure dei buchi neri supermassivi che magari hanno milioni o miliardi di masse solari che sono normalmente quelli che fanno quasi da centro di gravità di ogni singola galassia come quello che è stato fotografato appunto un paio d'anni fa c'era però un gap tra i primi e i secondi in quel gap non si era mai osservato assolutamente nulla in questo caso questi 142 masse solari di questo buco nero si trovano esattamente all'interno del gap e quindi hanno dimostrato questa questa rilevazione ha dimostrato che esistono e possono esistere dei buchi neri con questa questa dimensione dopo di che un altro risultato molto importante molto interessante è successo sempre un paio di anni fa in questo caso c'è stata una detection di un'onda gravitazionale provocata dall'unione di un buco nero e di un oggetto non perfettamente definito perché non è perfettamente definito perché questo secondo oggetto ha una è stato stimato avere una massa solare di circa 2.6 masse solari il problema è che queste 2.6 masse solari non vanno bene per la teoria che abbiamo avuto finora fondamentalmente c'è le stelle di neutroni più grandi dovrebbero avere al massimo due massi solari e mezzo e finora non era mai stato osservato nessun nessun buco nero che avesse come dimensione meno di 5 masse solari e quindi questa questo oggetto si trova esattamente in questo buco in questo gap se vogliamo e non si sa che cosa sia non si sa se sia il il buco nero più piccolo che sia mai stato osservato o la stella di neutroni più pesante che si sia mai vista e che tra l'altro va va proprio oltre il limite teorico previsto e quindi anche questo è stato un momento molto eccitante e attualmente gli astrofesici stanno cercando di capire di che cosa si tratti infine chiudo la mia presentazione con qualcosa che è stato detto praticamente credo un paio di settimane fa il 29 giugno di quest'anno è stato confermato per la prima volta la detection di due onde gravitazionali ottenute dal merging di un sistema binario tra un buco nero e una stella di neutroni questo genere di sistema binario era stato cercato a lungo negli ultimi decenni ma non si era mai riusciti ad avere un'evidenza specifica di questa dell'esistenza proprio anche di questo di questo possibile sistema binario e in questo caso effettivamente quello che si è trovato è che esistono possono esistere e che poi anche la loro coalescenza provoca delle onde gravitazionali proprio come ce le aspettiamo l'unico problema è stato che queste queste due detection derivano da sorgenti che si trovano a circa un miliardo di anni luce dalla terra quindi sono ben lontane ben fuori se vogliamo dalla nostra galassia dalla via lattea e quindi questo ha fatto sì che la controparte elettromagnetica non sia stata visibile perché appunto si tratta di qualcosa di veramente molto lontano adesso si spera di riuscire a vedere degli eventi analoghi però anche all'interno della nostra galassia e quindi si spera poi di avere un qualcosa anche dal punto di vista elettromagnetico benissimo io ho finito la presentazione vi ringrazio per la vostra attenzione se avete qualunque domanda sono qui per voi beh Alberto grazie mille complimenti anche per il livello di aggiornamento estremo dei dati presentati esatto sì c'è stata questa notizia proprio di un paio di settimane fa ho deciso di mettervela così almeno c'è proprio tutto guarda non devo neanche farti la domanda di la domanda rompi ghiaccio perché vedo che c'è Lucanos che ha già alzato la mano e quindi gli passo subito la parola ok grazie Marco e grazie Alberto per la molto interessante presentazione e senti la mia è più che anche una curiosità oltre ovviamente a migliorare sempre di più per quanto riguarda da un punto di vista come dicevi appunto ingegneristico la detection a terra si sta studiando che tu sappia è in corso sono in diciamo fase di definizione come accennavi appunto soluzioni non da terra per poter andare a investigare quei range di frequenza appunto a cui accennavi e in quel caso che tipo di se è un'informazione che si può passare che tipo di approcci si pensa di utilizzare o se è stato diciamo è venuto fuori qualcosa sì 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 guarda assolutamente sì è già stato allora diciamo che ci sono questi due filoni ci sono i rilevatori terrestri e quelli se vogliamo diciamo chiamiamone gli spaziali il progetto dei rilevatori spaziali si chiamava lisa e poi è diventato elisa o elisa perché l enhanced lisa se vogliamo ed è già stato già stato definito allora quando ero a Parigi avevano già assegnato l'anno della missione perché ovviamente bisogna portare in orbita dei satelliti e quindi mi sembra che l'anno deciso fosse il 2034 per cui per il 2034 verranno messi in orbita saranno tre satelliti in questo caso la configurazione è allora è sempre una configurazione interferometrica ottica per cui si basa sempre su quello però sarà una struttura triangolo fondamentalmente che verrà mantenuta diciamo in orbita molto lontana dalla Terra però è pur sempre in orbita in questo caso quello che cambia molto è la distanza che c'è tra un satellite e l'altro per cui quello che non vi ho detto prima effettivamente nei rilevatori terrestri voi avete dei bracci dell'interferometro che sono su qualche chilometro Virgo ha tre chilometri di braccio l'Aigo ne ha quattro dopodiché avete le cavità risonanti che è come se lo amplificassero però fondamentalmente queste sono le distanze anche perché già con qualche chilometro si risente drammaticamente della curvatura terrestre per cui ci sono proprio alcune zone dell'interferometro che sono state scavate più in basso perché la luce ovviamente va dritta e quindi bisogna bisogna tenerne conto e in più ci sono tutti i problemi dovuti ai rumori diciamo sismici e così via nello spazio stimano di fare un braccio di un milione di chilometri che è una cosa vabbè anche per me è totalmente magia ok però ci sarà questa struttura proprio a triangolo equilatero con i tre i tre satelliti a un milione di chilometri l'uno dall'altro e questo farà sì che fondamentalmente questo genere di rilevatore sia molto più sensibile a frequenza bassa perché diciamo più è lungo il braccio e più la frequenza che si può rilevare si abbassa e quindi in quel caso appunto questi sono già sono proprio già previsti per il 2034 e hanno già fatto una missione preliminare mi sembra proprio nel 2014 15 in cui hanno mandato su l'equivalente di un prototipo di uno di questi di questi satelliti per provare che tutto insomma avesse senso e ha funzionato tutto bene per cui è stato confermato nel 2034 è una bella sfida anche perché insomma tecnologicamente anche il sincronismo tra questi tre oggetti che devono mantenere sempre cioè dovremmo mantenere sempre quella distanza in quelle condizioni poi comunque anche la distanza è tale per cui le comunicazioni sono fondamentali nel senso quindi sulla esatto infatti per quello che cioè l'ho usato magari un po' male ma davvero è quasi magia cioè se quello funzionerà sarà veramente qualcosa di un'ultima cosa è lì che diciamo che quali eventi si pensa di riuscire a leggere di quelli allora sicuramente si punta a vedere le supernove perché perché le supernove purtroppo diciamo sono eventi molto impulsivi che sono molto molto forti però lo sono molto di meno di quello che abbiamo visto finora e quindi in quel caso sicuramente ci sarà un miglioramento proprio a livello di sensibilità perché non ci sono quello che limita molto attualmente è il rumore sismico proprio per cui ci sono tutte delle strutture che eliminano il più possibile il rumore sismico ma come dire essendo a terra è difficile cancellarlo completamente in quel caso non ci sarà questo problema e quindi da questo punto di vista si dovrebbe guadagnare veramente molto e in più si dovrebbero vedere tutti anche quegli effetti di quale scienza di oggetti molto più grandi se pensate praticamente quello che è stato visto sono stati tutti dei merging di buchi neri che stanno su qualche decina di masse solari tendenti al 100 magari come massimo però non di più se noi riusciamo ad abbassare la frequenza vediamo anche gli eventi in cui sono coinvolti dei buchi neri con molte più masse solari e quindi in questo senso probabilmente si riesce ad avere delle informazioni ancora più dettagliate in quel gap di cui vi ho parlato poco fa perché proprio in quella zona lì allora saremmo più sensibili fondamentalmente ok grazie mille niente grazie Alberto vedo che si è prenotato Nicola prego ciao intanto volevo ringraziare Alberto per la presentazione davvero molto molto interessante e volevo fare una domanda sulle sfide ingegneristiche che ci sono di fronte sia su rivelatori soprattutto su rivelatori terrestri che sembrano ormai degli oggetti ormai in produzione diciamo quasi fissi però in realtà appunto come spiegavi ci hanno delle run successive via via delle immagini degli upgrade previsti ero curioso di sapere quali sono appunto le sfide principali in questo allora hai ragione tutto quello che hai detto è proprio preciso diciamo che adesso sono dati quasi per scontati ma nel frattempo ci sono tutta una serie di evoluzioni già previste e alcune già diciamo implementate e testate proprio su quelli attuali la una delle delle innovazioni principali proprio di un rivelatore in particolare che è quello giapponese è il fatto che quello ha una parte fondamentalmente è tenuta a non so se o due gradi kelvin o addirittura sotto per cui è creogenico questo aiuta a migliorare ovviamente la sensibilità perché diciamo ci sono tantissimi tantissimi rumori uno di questi è proprio il rumore del del moto browniano delle mole degli atomi fondamentalmente che compongono gli specchi che quindi vanno a introdurre proprio delle variazioni minime che però possono essere scambiate per onde gravitazionali o che comunque ti fanno un livello di rumore sotto il quale non riesci ad andare per limitare questo rumore se tu diminuisci la temperatura ovviamente hai un guadagno e quindi loro visto che l'hanno costruito poco fa hanno provato proprio a creogenizzare insomma il tutto o almeno una parte adesso credo proprio la parte degli specchi e del del bisplitter che divide la luce diciamo che quella fase non è andata benissimo nel senso che c'è stato qualche problema proprio perché hanno scoperto che il materiale che poi hanno utilizzato per gli specchi che era diverso da quello degli altri perché appunto doveva poter andare a queste temperature estreme poi provocava tutta un'altra serie di problemi e quindi diciamo che hanno dovuto cambiare in corso d'opera proprio gli specchi hanno avuto dei ritardi e così via un'altra già adesso sono o meglio già quando io ero a Parigi quindi nel 2013 2014 era già previsto il nuovo rivelatore europeo cioè diciamo quello successivo a Virgo ecco che si chiamerà Einstein Telescope e in questo caso come quello giapponese sarà sottoterra in modo da limitare il più possibile il rumore il rumore sismico avrà una struttura triangolare simile a quello spaziale in cui ci saranno fondamentalmente due interferometri uno dentro l'altro ok perché l'interferometro appunto è una struttura ad L e quindi in un triangolo tu riesci a farne praticamente addirittura tre ce ne stanno perché hai tre vertici e quindi riesci a fare tre di questi interferometri e questo sarà interessante perché fondamentalmente i tre interferometri saranno in contemporanea e su frequenze diverse ok e quindi saranno ottimizzati per una banda un po' più piccola di frequenze ma in quel modo riesci a leggere tutta la banda intera con una sensibilità molto più alta attualmente i rivelatori attuali possono essere in qualche modo se vogliamo tunati per cui quello che succede è che se si vuole osservare una certa banda di frequenze si può cambiare un minimo la configurazione per aumentare la sensibilità lì ma ovviamente peggiorare quella dalle altre parti in questo caso si potranno avere sensibilità quasi molto costanti e molto buone su tutta la banda di interesse ecco fondamentalmente ci sono queste attualmente stanno inserendo delle strutture per la luce squeezed per cui per andare a migliorare la statistica della luce che viene iniettata all'interno dell'interferometro questo è proprio quello che lo stanno inserendo adesso e quello già si sa che funziona e aiuta proprio comunque diciamo che fa guadagnare magari un fattore due o tre ecco sulla sensibilità che comunque è tantissimo esatto e quindi sì ci sono tutte queste sfide poi diciamo che allora attualmente visto che è una ricerca veramente di frontiera non c'è una vera e propria concorrenza tra i rilevatori per cui c'è una collaborazione ci sono degli accordi tra l'Aigo Virgo e Kagra che è quello giapponese per cui c'è una condivisione totale dei dati e anche delle tecnologie fondamentalmente dopodiché ognuno però sviluppa le cose un po' come come vuole lui per cui per esempio Virgo ha una stabilizzazione sismica che è passiva mentre l'Aigo ce l'ha attiva per cui ci sono anche diversi modi di fare un po' la stessa cosa ci sono vantaggi e svantaggi però insomma fondamentalmente quello che ovviamente adesso sarà anche importante fare che è quello che è già stato considerato per i prossimi anni è quello di aumentare il numero proprio di antenne gravitazionali per cui ci stanno non so se hanno già cominciato comunque sicuramente costruiranno un altro l'Aigo in India per cui ci sarà proprio esattamente la struttura che c'è adesso negli Stati Uniti la faranno identica anche in India e poi credo che stiano cercando di trovare un posto dove farne uno nell'emisfero australe fondamentalmente perché lì non c'è non c'è nulla e quindi quello ti aiuta un po' per la compresenza di rilevatori allo stesso momento che è sempre utile ma anche perché più rilevatori sono attivi allo stesso tempo più si riesce a ridurre lo spazio di cielo in cui si deve andare a osservare l'errore di puntamento esatto e quindi diciamo che se ci fosse qualcosa anche nell'emisfero australe ci sarebbe un miglioramento abbastanza significativo forse in Australia adesso quello non lo so se ci stanno pensando però penso che prima o poi lo faranno spero ecco grazie ancora anche per questa risposta molto 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 interessante ok quindi abbiamo Laura che ha alzato la mano prego Laura accendo tutto Alberto grazie mille c'è una presentazione non faccio domande di tipo tecnico non chiedo cose che non ho capito ma mi piaceva sapere l'ordine di grandezza dei finanziamenti per questo tipo di ricerche chi è che le finanzia allora per quanto riguarda Virgo diciamo che c'è una quota decisamente significativa da parte dell'Unione Europea e poi i vari i vari stati che partecipano al consorzio mettono anche loro una quota questa quota poi sono finanziamenti per la struttura che comunque ha un costo cioè stiamo parlando di decine di milioni di euro ok e poi per le persone allora attualmente allora mettiamola così quando ci lavoravo io che era quando si stava cercando ancora la prima le persone che lavoravano in questo campo erano credo tra i 1500 e le 2000 contandole tutte in tutto il mondo adesso probabilmente ci sarà stato insomma un minimo di aumento però tutte queste persone sono fondamentalmente diciamo sono in parte non so se chiamarli i vostri colleghi perché sono molto spesso sono dell'INFN in Italia del Seneres che è il vostro equivalente invece in Francia diciamo che Virgo è fondamentalmente italiano e francese dopodiché negli ultimi negli ultimi anni sono entrati anche gli olandesi e i polacchi mentre per il resto non c'è nessun altro l'Aigo è fondamentalmente americano però ci sono anche delle collaborazioni con la Germania e con l'Inghilterra il Giappone fa da solo e l'India di cui parlavo prima sarà comunque diciamo uno spin off di l'Aigo quindi fondamentalmente siamo sono questi paesi che sono attualmente coinvolti dopodiché il finanziamento appunto la struttura costa decine di milioni di euro perché insomma vabbè a parte proprio gli spazi se guardate su Google Maps lo vedete quello italiano perché il Virgo è installato vicino a Pisa è a Cascina quindi probabilmente i colleghi di Pisa magari sanno loro conoscono esatto e se guardate su Google Maps vedete sta struttura ad L cioè si vede proprio dal satellite è una cosa bellissima e e quindi insomma poi adesso l'hanno appena rifatto perché sono già alla seconda versione fondamentalmente la prima non ha fatto vedere assolutamente nulla né da Virgo né da Live il secondo ha permesso tutte tutte queste detection gli americani ovviamente hanno molti più soldi e credo che sia almeno dieci volte tanto per cui ci avranno messo dentro almeno un 200 milioni di dollari se non di più e in quel caso il principale finanziatore è il come si chiama l'N oddio vabbè è l'ente nazionale quello della ricerca ecco esatto sì è quello fondamentalmente sono loro loro hanno una cosa un po' particolare perché da quanto ho capito loro è come se fossero in affitto per cui gli spazi proprio dove adesso ci sono i rilevatori di LIGO sono veramente in affitto e quindi c'è sempre tra virgolette questa paura da parte loro che a un certo punto decidano di puntare su qualcos'altro quindi devono proprio non so sbaraccare e spostare tutto da un'altra parte è una roba non lo so per me è assurda però effettivamente è molto americana da questo punto di vista per cui più o meno siamo di quest'ordine costruirne uno dal nulla secondo me sì almeno un centinaio di milioni vanno vanno via ecco soprattutto di quelli nuovi che sono sono sotto terra quindi bisogna scavare io ho avuto ho avuto la fortuna di vedere quello giapponese intanto che lo stavano lo stavano costruendo c'era stata una conferenza la e quindi ci hanno portato a vedere però cioè fanno proprio tutte fanno magari cinque chilometri di gallerie sotterranee e quindi anche quello è molto molto dispendioso ecco dal punto di vista Giappone è nota per essere sismicamente attivo esatto infatti quello vabbè lasciamo stare perché è molto molto particolare questa cosa il nostro Einstein Telescope attualmente non è ancora sicuro dove lo costruiranno perché credo che cominceranno nel 2030 a costruirlo adesso credo che stiano raccogliendo proprio i finanziamenti per poi partire con la costruzione della struttura come ipotesi credo che fossero rimaste o una una ex miniera in Sardegna oppure una una zona diciamo è proprio al confine tra Olanda credo Belgio e insomma quella zona lì non so non so esattamente bene dove però più o meno lì sono anni che stanno facendo studi proprio a livello sismico per vedere qual è quella migliore poi diciamo che la Sardegna forse non sarebbe perfetta perché comunque cioè ci sarebbe un po' l'effetto delle delle onde comunque che si sentono però c'è il guadagno che la come dire la la miniera è già sottoterra per cui la struttura è già un po' più avanti se vogliamo però non so bene dove lo faranno credo che non abbiano ancora deciso grazie grazie scusa posso chiederti ancora una roba allora quest'ultima rilevazione che è stata fatta adesso giugno 2021 sono onde gravitazionali che sono state generate da questa quale scena questa insomma questa roba qua di un buco nero e di una stella esatto a un miliardo di anni luce dalla terra esatto che significa un miliardo di anni fa sì sono sempre delle cose allora belle e inquietanti allo stesso tempo perché davvero cioè si sta parlando di qualcosa che è successo quando tutto era completamente diverso è veramente estremo non mi ricordo anche la prima non è stata cioè non era così tanto vicina però il primo è stato un evento estremo perché se se guardate proprio questa slide che sono ok sono solo le prime le prime undici ma proprio vedete come in effetti la prima sia stata uno dei segnali più forti mai rilevati è stato proprio un come una specie di di campanello proprio per dire dai che ce la fate questa volta anche quella non era non era vicinissima però non era insomma non credo che fosse un miliardo di anni ecco non so se l'avevo scritto da qualche parte ma sì stiamo parlando proprio di di cose dall'altra parte dell'universo scusa tanto per ripassare il Big Ben quando è che dovrebbe essere allora dovrebbe essere se non sbaglio 5 e 15 miliardi di anni fa ah 15 ok mentre il sole dovrebbe essere di 5 miliardi e dovrebbero dovrebbero esserci altri 5 miliardi prima che decida di bruciarci tutti ce l'hai in una slide secondo me ce l'ho eh sì allora forse ah forse quella dopo forse l'hai segnato in agenda quello che ci brucia quello spero spero di essermene già andato da un po' però sì diciamo che mi sembra che tra 5 miliardi di anni dovrebbe il sole dovrebbe finire dovrebbe diventare una una gigante rossa ecco però tristemente lui non servirà a nulla perché diventerà una nana bianca e quindi pazienza cioè nessuno dall'altra parte dell'universo vedrà il nostro sole purtroppo un'altra cosa velocissima ma da quando si è cominciato a cercare di rilevare queste onde gravitazionali eh da un bel po' perché c'è stata una prima fase credo negli anni forse negli anni sessanta ah perché all'inizio allora adesso vi ho raccontato di dei rilevatori attuali che si basano proprio sull'ottica mentalmente eh prima c'è stato un tentativo molto curioso eh di utilizzare delle band delle proprio delle oddio eh delle delle bande d'acciaio proprio dei dei cilindroni d'acciaio eh che eh in un certo senso proprio risuonavano eh con l'onda gravitazionale e quindi andare a vedere proprio l'espansione e la contrazione di queste eh di questi cilindri e eh quello mi sembra che fosse tipo intorno agli anni sessanta dopodiché ehm si è passati diciamo alla struttura interferometrica ma già da secondo me già dagli anni probabilmente dagli anni ottanta eh che c'è tutta questa teoria perché davvero eh la prima versione dei dei rilevatori ha secondo me ha cominciato verso gli anni duemila ha proprio ad essere utilizzata ha funzionato forse per una decina d'anni però non hanno mai visto nulla eh non hanno mai visto nulla e quindi poi hanno fatto la seconda generazione che ha richiesto proprio una variazione abbastanza significativa dei materiali degli specchi tutto quello che c'è e mezzo così e infatti diciamo che appunto ci hanno messo quattro cinque anni praticamente per per fare questa questa evoluzione ecco poi in questo momento esattamente ora stanno facendo un upgrade ma un upgrade di quelli che loro chiamano tra virgolette piccolo per cui dovrebbe adesso non c'è nessun non sono in funzione perché stanno facendo questo upgrade e sarà circa un anno di di lavoro invece proprio quando fanno l'upgrade quello grosso e lì parliamo di quattro cinque anni grazie mille se non ricordo male le prime onde le aveva rilevate soltanto il LIGO il virgo in quel momento era in manutenzione eh sì stava proprio finendo il di questo upgrade per diventare advanced diciamo eh sì 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 infatti eh fondamentalmente le hanno viste i due di LIGO e infatti se guardate bene in questa slide c'è eh quella quella sopra è Enford e quello sotto è Livingstone che sono i due posti eh dove ci sono le due antenne di LIGO e le hanno viste molto bene diciamo entrambi ecco uno meglio dell'altro però eh fondamentalmente ehm le hanno viste tutte e due e è il motivo per cui appunto possono eh possono dire che è vera certificare esatto poi allora dietro c'è c'è un sacco di post protesting che è qualcosa di incredibile però eh effettivamente l'ho testato anche io perché eh ho fatto un corso di dottorato su questo e quindi per farlo fare agli studenti l'ho studiato bene e ho fatto il programma per farlo provare a loro ed effettivamente è incredibile con quel tipo di post processing si riescono a ricavare queste onde che altrimenti sarebbero boh totalmente invisibili sì comprenere le nascorse nel segnale esatto sì 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 e direi che uno degli insegnamenti di questa vicenda della caccia alle onde gravitazionali mi sembra che sia che tra le doti non secondarie di noi ricercatori bisogna mettere in valigia anche una certa dose di pazienza perché eh la caparbietà poi paga esatto sì 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 diciamo che ci hanno messo cento anni però dai eh è andata va bene sentite mi sembra che l'interesse sia stato altissimo grazie ringrazio ancora Alberto per questa presentazione quindi a questo punto grazie a voi ti prenoto già per un update l'anno prossimo non so perché crede vogliamo essere giornati va bene sì 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 ogni tanto magari adesso dobbiamo chiudere vi dico quello che succede di nuovo ecco perché a parte la prima che vabbè è stata ovviamente come giusto pubblicizzata su tutti i media perché vabbè è stato qualcosa di epocale poi tutte le altre cose di cui vi ho parlato che sono importantissime a livello scientifico però come dire non le considera più nessuno ecco questi fanno meno notizie esatto sono date quasi ormai per scontate ma hai visto la prima basta è basta non abbiamo neanche parlato dei gravitoni ecco quelli non so assolutamente cosa siano hai un anno di tempo per prepararti ok perfetto va bene allora ringrazio tantissimo Alberto davvero per questo veramente interessante e tutti i partecipanti chiudiamo quindi qui la stagione giusto Lucanos mi sembra ci rivediamo a settembre buone vacanze a tutti quindi grazie a voi davvero e buone vacanze grazie veramente